In occasione della ventunesima giornata fai di primavera, Tossicia, tre giorni di visite in luoghi aperti, tra cui la chiesa parrucchiale di Santa Maria Assunta, che ricordiamo chiusa dopo il terremoto. Sì, abbiamo tre giorni, apriamo i gioielli di Tossicia. Tossicia è la capitale della Velle Siciliana, non la dimentichiamo, una città ricca di beni che nessuno conosce, che vorremmo in questa occasione farlo conoscere non solo ai Terramani, ma anche a tutta Italia, abbiamo anche visite guidate in inglese e in francese, dei ciceroni dell'Istituto Comprensivo di Tossicia e Colledara. Siamo contenti di aver scelto Tossicia perché è stata la città più toccata dall'evento del 2009, del terremoto, e quindi adesso sta risorgendo e noi vogliamo dargli un contributo ad aiutare questa terra. Sindaco, un'occasione importante per riscoprire Tossicia? Sì, importantissima. Questo devo ringraziare la Presidente del FAI Provinciale, la Lottoressa Giannella, che noi, dal mio primo insegnamento a Tossicia nel 2009, subito dopo l'evento sismico che abbiamo avuto, la Lottoressa Giannella ci è venuta a trovare e abbiamo avuto i primi risultati. E sin da quel momento stavamo puntando per queste tre giornate di primavera, quindi abbiamo il nostro famoso museo etnografico chiuso. In questa occasione abbiamo fatto una messa in sicurezza temporanea, e lo stiamo riaprendo, come la Chiesa Madre di Santa Sinforosa. Per me è una grandissima soddisfazione avere questa sinergia con le associazioni locali. Speriamo che la primavera ci dà un aiuto per queste tre giornate, che sia tempo bello e così riaccende il turismo e cerchiamo di ripartire.